bella a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video questo è il video del fortepet numero 65 che si può trovare esattamente in un set cinematografico in un sotterraneo di una casa è molto molto semplice si trova qua shifty shaft e a condotti confusi in queste due casette un po fuori da condotti però è sempre là intorno ci basterà entrare non in quella col tetto trasandato ma nella casa intera ci basterà andare nel sotterraneo e qua troveremo il nostro fort bite eccoci qua questo è il set cinematografico vi faccio vedere meglio il posto qua vicino al green screen ok direi che ci possiamo far ammazzare ora sì per favore io adesso seguirò lui così almeno mi ammazza mi ammazzi no voglio che mi ammazzi mi devi ammazzare tu no fammi così ah ok grazie posizionala posiziona qua ok grazie ok andiamo a vedere subito cosa ci riserva questo forte bait eccoci qua adesso andiamo a vedere subito qual è l'immagine in questo forte è molto molto interessante perché si trova esattamente quasi al centro però quasi al centro da molto molto figo vediamo ok ok va a chiudere questa fascia l'immagine ci sta sempre di più rivelando con i vari giorni che passano a prendermi fort bite e niente vabbè ragazzi io saluto spero che questo video vi mettete like iscrivetevi al canale seguitemi su instagram sinereo yt e niente io vi saluto ciao